buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno e allora troviamo 5 minuti per fare un video sulla juventus io da quando è finito il campionato ragazzi non ne sto facendo più video e avevo detto di parlare esclusivamente del mercato però siccome ogni giorno sui giornali ci sono sempre minchiate vedi praticamente voci assurde come neymar anni fa si fece la voce su guardiola la juventus eccetera c'è sempre qualche coglione che ogni volta mette un nome di fantascientifico per buttare polvere negli occhi ai tifosi e poi ci sono quei polli che abboccono che abboccono tutte cose e quindi io una volta che ci sono queste notizie di merda io non non mi abbasso a fare i video perché mi dà fastidio a dare delle notizie false sul web e quindi oggi sto facendo questo video perché comunque in base alle notizie che ho ricevuto ai video che ho visto soprattutto gli aggiornamenti del bravo giornalista romea gressi il quale vi invito a iscrivervi al suo canale perché è un bravo giornalista uno dei pochi seri e nonché è grande juventino cioè quindi vedendo quindi stavo dicendo questi video di romea gressi ho avuto un po diciamo il quadro della situazione come sta andando allora oggi vi parlerò di tre giocatori prima di tutto Pogba Pogba già è della juventus non si sa da quanto tempo solo che per motivi ancora non sappiamo quali forse probabilmente il bilancio motivi perché la juventus è in borsa eccetera eccetera finalmente pare dico pare che sia praticamente previsto il suo arrivo a luglio quindi a prima di luglio Pogba dovrebbe arrivare alla juventus quindi che sia stata che sia stata già cosa fatta Pogba lo si sapeva anche che se come al solito ci sono sempre gli scettici che dicevano che non era vero quindi Pogba era già la juventus quindi Pogba sembra fatto quindi arriverà ai primi di luglio non si sa quando il 4 5 6 quello poi vedremo però andando a luglio Pogba verrà ufficializzato quindi io dico bentornato Paul finalmente ci voleva un centrocampista del tuo livello e in questo centrocampo squalido ne avevamo bisogno come il pane andiamo avanti Engel Di Maria per carità è un furiclasse è uno degli esterni di attacchi più forti del mondo però se posso esprimere un giudizio livello di professionalità e di serietà umana zero perché dico questo perché sta condannando la juventus la juventus a ricevere una risposta io dico Di Maria ma che cazzo ci vuole a dire che non vuoi venire cosa ci vuole non è serietà bloccare un club due mesi due mesi per dare una risposta cazzo non è una serietà sei forte sei uno degli esterni di attacco più forti del mondo la juventus anche se per un anno ti vuole rimpiazzare e va bene siamo d'accordo così però non è giusto se non vuoi venire parla chiaro anche se sei in vacanza non so dove non ti stiamo dicendo di venire subito qua in Italia come sta facendo Pogba che verrà a luglio fatti le vacanze fai quello che vuoi ma avete manager avete l'enduragio avete chi vi sta dietro le spalle dai una risposta non possiamo aspettare fino ad agosto devi dire devi avere le palle non voglio venire oppure voglio venire la juventus ti sta andando incontro aveva fatta la proposta di due anni e l'avevi rifiutata perché volevi fare un anno perché poi te ne volevi andare in Argentina ti ha fatto la proposta anche di un anno e tu ancora non dà la risposta ma basta tirarsela hai rotto il cazzo basta tirarsela basta tirarsela a quanto pare io stamattina ho visto i video di Romagna Cresti e ancora la pista non sembra mollata non sembra definitivamente mollata ancora anche se tutti i giornali davano per sicuro il fatto che la juventus avesse mollato di Maria comunque se ti decidi a dire sì io ti darò lo stesso e benvenuto se dirai di no vai a fare in culo perché questo perché no perché sono arrabbiato perché dici di no ma perché praticamente hai fatto aspettare la juventus due mesi e io mi butterei tutto su Zaniolo perché è un campione a me piace sul ragazzo Zaniolo con Chiesa ragazzi farebbero l'inferno Zaniolo con Chiesa farebbero l'inferno ha copiato a Vlauric secondo me sarebbe un attacco stellare soprattutto per il nostro campionato un tridente formato da Vlauric chiese Zaniolo sarebbe fortissimo per me va bene anche per me va bene comunque anche Berardi perché Berardi anche se ha fatto se ha mangiato quei go con la nazionale ma comunque Berardi ricordiamo che è sempre un signor giocatore perché è uno che è rigorista è uno che in Italia segna fa assist quindi va bene andrebbe bene anche Berardi anche se però il Sassuolo Berardi secondo me non venderà perché il Sassuolo se lo venderà caro lo venderà carissimo quindi secondo me Zaniolo anche se costa 50 milioni è più fattibile io mi butterei su Zaniolo capitolo 3 De Litte De Litte hai rotto il cazzo sei un grande difensore per carità anche se ogni tanto fai delle cappellate mostruose che neanche i difensori ZRC fanno però se non vuoi stare alla Juventus ora si parla di rinnovo si parla di rinnovo che dovresti rinnovare se non vuoi stare alla Juventus visto che a quanto pare forse hai chiesto la cessione la porta la conosci la porta la conosci prendi la apre e te ne vai qua noi non abbiamo bisogno di minacce di bimiminchia come a te non abbiamo bisogno praticamente di non fai spaventare a nessuno io nella mia vita ho visto andare Platini ho visto andare Zidane ho visto andare Del Piero ho visto andare Pippenzaghi ho visto andare Ronaldo l'anno scorso e quindi di te me ne strafotto i coglioni capito? me ne strafotto il cazzo sei un grande difensore però a me non vuoi spaventare a nessuno se vuoi rinnovare rinnova se non vuoi rinnovare qua c'è la porta e te ne vai perché comunque la Juventus troverà sempre il modo di rimpiazzarti ci sarà Koulibbi lì c'è Bremer e ci sono tanti altri difensori fortissimi in Europa che ti possono rimpiazzare quindi se vuoi rimanere ben venga perché comunque ti stimo come difensore ma ora mi dispiace stai parlando troppo e a sproposito e a sproposito quindi se vuoi andare vattene senza buttare la merda addosso alla Juventus che ti ha dato a mangiare per due anni ti ha dato a mangiare perché il primo anno quando hai vinto il campionato è tutto a posto ora in questi anni che non hai vinto stai cominciando a buttare la merda e questa cosa a me non va bene perché nelle squadre anche quando in momenti di difficoltà praticamente una deve andare incontro alla squadra non solo quando vinci cioè a tutti è sempre forza io che ti ha dato a